Buon pomeriggio, è il 16 di giugno, sono le 5 in punto, ore 17, come al solito durante il fine settimana in un orario diciamo più tranquillo, non le consuete 14.30, ma le 17 per darvi l'occasione magari di prenderve la comoda dopo pranzo. Benvenuti alla mia diretta Facebook, io vi ricordo sempre di, mi raccomando, condividere questo video, soprattutto durante le dirette, in modo tale da poter allargare il cerchio dei nostri 25 ascoltatori, qualcuno in più, insomma, facciamoli crescere. E quindi il punto un po' della settimana durante queste dirette di fine settimana, del weekend, e partirei naturalmente con Virginia Raggi, che credo sia stata in assoluto la protagonista di questa settimana, un po' per le indagini che stanno scuotendo Roma, ricordate sulla costruzione del famoso nuovo stadio della Roma, siamo entrati in familiarità con alcuni personaggi di cui non avevamo probabilmente mai sentito parlare, come il costruttore Parnasi, ma soprattutto questo ormai famosissimo avvocato Lanzalone. I due insieme evidentemente si sentivano estremamente sicuri, abbiamo visto che dalle intercettazioni dicevano addirittura che il governo l'hanno fatto loro, abbiamo addirittura scoperto che pochi giorni dopo le elezioni c'era stato un incontro, una cena tra Giancarlo Giorgetti, super potentissimo, numero due della Lega, e attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, insieme appunto a Parnasi e Lanzalone, proprio perché loro spingevano perché si creasse questa maggioranza giallo-verde. Ovviamente io voglio sempre dire che, come sapete, io ho una posizione strettamente garantista, per quanto mi riguarda nessuno è colpevole finché non c'è una sentenza che lo dichiari colpevole, però le responsabilità politiche e quelle giuridiche, quelle giudiziarie, vanno evidentemente tenute separate e se massimo rispetto dal punto di vista di quelle che saranno poi le sentenze della magistratura va espresso, io lo voglio assolutamente esprimere, dall'altro lato è inutile negare che le responsabilità politiche sono importanti perché per quanto la sindaca Raggi faccia di tutto per dire che questo Lanzalone era una figura tecnica, in realtà sappiamo che era una figura eminentemente politica, una persona molto introdotta ai vertici del Movimento 5 Stelle, l'autore materiale dello statuto del Movimento 5 Stelle, è colui che cura le cause, quella di Genova fatta dalla Monica Cassamati, se ricordate, la vincitrice delle primarie per il Comune di Genova che poi fu eliminata con un colpo di penna da Beppe Grillo che disse abbiamo fatto le primarie ma non servono a niente, fidatevi di me, lei non è la candidata giusta. Questo Lanzalone lavora con il Movimento 5 Stelle a Livorno, sapete che è l'assessore del bilancio di Livorno e poi è diventato assessore del bilancio a Roma e viene mandato dalla Raggi, naturalmente la Raggi cosa dice? Ma io non ne sapevo niente, dormivo, stavo facendo dell'altro, me l'ha imposta qualcun altro, me l'ha imposta a Casaleggio, me l'ha imposta, pare che abbia detto ai giudici che in realtà questa figura le era stata imposta da Fraccaro e Bonafede, due importanti ministri di questo governo, Fraccaro il ministro dei rapporti col Parlamento, Bonafede invece il ministro addirittura della giustizia, il guardasigili della Repubblica e il tutto dipinge naturalmente un Movimento 5 Stelle molto molto lontano da quel movimento della democrazia diretta, delle decisioni prese dalla base, dove uno vale uno democraticamente con lo streaming. Abbiamo scoperto che invece le cose si decidevano in delle cene, tra l'altro il giorno prima di essere arrestato, Lanzalone incontra lo stesso Davide Casaleggio per discutere di nomine in un ristorante romano, quindi altro che... ah, non dimentichiamo poi che Di Maio va in radio a dire che Lanzalone era stato nominato presidente di Acea, cioè della municipalizzata che cura appunto l'energia e l'acqua a Roma, con un signor stipendio per premiarlo del suo lavoro, quindi altro che trasparenza, curricula, si mette lì un amico che ci ha dato una mano in buona sostanza. Quindi il Movimento 5 Stelle, ripeto, che è diversissimo da quello che è stato dipinto, è una sindaca che appunto non si capisce che cosa stia a fare lì, quale sia il suo ruolo, ma devo dire in tutto il Movimento 5 Stelle i ruoli sono molto curiosi, perché anche questo Davide Casaleggio, a parte il fatto che voi sapete che lo statuto scritto da Lanzalone prevede che tutti i parlamentari della Repubblica eletti nelle liste del Movimento 5 Stelle diano 300 euro a Rousseau, che è questa associazione che gestisce la piattaforma, che è una sorta di, non so come dire, di strumento democratico che il Movimento 5 Stelle vuole sostituire, diciamo gli strumenti previsti dalla Costituzione, perché le decisioni si prendono lì, lì si è approvato il contratto di governo, cosiddetto contratto, lì si è scelto Di Maio come capo politico, e quindi tutti i nostri parlamentari danno fondi, dal loro stipendio, stipendi pubblici, a questa associazione, gestita da questo signor Davide Casaleggio, che ci dice di non avere nessun incarico, di non rappresentare nulla, però non si capisce perché era a cena con Lanzalone il giorno prima che Lanzalone fosse arrestato per discutere di cosa e perché poi loro due dovessero discutere, non si capisce nemmeno Lanzalone, a parte la presidenza di Acea, cosa stesse facendo, una delle questioni che i magistrati stanno cercando di comprendere, era lui a che titolo trattasse per la sindaca, se rivestisse un incarico da pubblico ufficiale oppure no, perché questo serve anche per la configurazione giuridica dei suoi comportamenti, eventualmente come reati. Quindi una situazione che è lontanissima dalla trasparenza, promessa dal Movimento 5 Stelle. Io francamente mi chiedo, gli simpatizzanti, gli iscritti e i meetup, quelli che hanno creduto in un movimento che doveva essere il movimento della democrazia diretta, al punto da creare un ministero della democrazia diretta che è gestito da Fraccaro, sembra quasi che democrazia diretta non sia diretta aggettivo, ma sia diretta participio passato, cioè che sia diretta dalla casaleggio, che qualcuno la dirige questa democrazia. E mi chiedo come facciano gli iscritti, simpatizzanti, che hanno creduto in un movimento che ha detto delle cose molto precise, a vedere un movimento che si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, di superchiuso intorno a questo Luigi Di Maio. Dalle intercettazioni Lanzalone dice siamo pochissimi a parlare con Di Maio, tre o quattro, e io sono uno di quelli, quindi sono uno di quelli che può fare le cose, perché sono in quel giro. Ma le cronache dei giornali parlano dei parlamentari di 5 Stelle che sono su tutte le furie. Dovete sapere che una delle cose che io ho sempre pensato da quando ci sono state le elezioni, che una delle grandi difficoltà che il Movimento 5 Stelle avrà sarà proprio di gestire i gruppi parlamentari, perché sono gruppi parlamentari molto numerosi, fatti però da persone che non si conoscono tra di loro, non sanno chi sono. Vedete, il Partito Democratico, con tutti i suoi difetti, è una comunità, e noi ci conosciamo, ci incontriamo alle iniziative, nelle riunioni degli organi di partito, all'Assemblea Nazionale, alla Direzione Nazionale, si creano rapporti anche personali, e chi arriva in Parlamento è sempre gente che ha un minimo di esperienza nel partito, nei circoli, sui territori, sono persone che si conoscono e con le quali si può anche stabilire un rapporto. Ma io immagino cosa accadrà nel gruppo di 5 Stelle quando cominceranno, per esempio, le votazioni a scrutinio segreto, e anche quale sarà il rapporto con quei parlamentari magari che sono delusi perché aspiravano una carica che non hanno avuta. Per esempio, pare, da quello che leggo dai giornali, ma non stento a crederlo, che i parlamentari di 5 Stelle della prima legislatura, quindi appena eletti, sentano la differenza con quelli rieletti, quelli che sono tornati in Parlamento dalla volta precedente, perché sostanzialmente i deputati, i senatori 5 Stelle che sono stati rieletti, quindi alla seconda legislatura, hanno preso tutto loro, tutti gli incarichi, sono andati tutti a persone che si erano fatte vedere nella legislatura precedente, quindi quelli neoeletti dicono ci sono anche qui delle competenze, ma nessuno le conosce. Quindi si comincia a vedere qualche scricchiolio e secondo me è assolutamente comprensibile. Com'è comprensibile? E' chiaramente, come dire, i punti interrogativi che circondano Virginia Raggi, che sembra la bella addormentata nel bosco. Accadono cose nel suo comune, nel comune di Roma, delle quali il sindaco non sa nulla, ma non so se avete visto questa curiosissima clip, questo spezzone di porta a porta, dove Bruno Vespa dice al sindaco di Roma, alla sindaca di Roma, ma guardi sindaca, lo sa che hanno appena approvato, è stata approvata al comune una delibera per intitolare una strada a Roma, a Giorgio Almirante, ex repubblichino, sostenitore di tesi razziste, nella Roma del rastrellamento dell'ottobre del 43, nella Roma della sinagoga, nella Roma in cui i romani veri sono praticamente gli ebrei romani, e voi intitolate una strada a Giorgio Almirante. Lei dice, ma non sapevo niente, ero qui in studio, e comunque l'aula è sovrana, quindi se hanno deciso così va bene. Come se il sindaco non fosse anche il capo della maggioranza politica che sta nel Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio Comunale prende decisioni senza rispondere al suo capo, che è il sindaco. Il partito romano dovrebbe riportare a Virginia Raggi. E lei candidamente dice, non so niente, ma l'Assemblea è sovrana. Salvo poi dire tutto il contrario e presentare una mozione che sarà votata dagli stessi consiglieri 5 Stelle che hanno votato per la via a Giorgio Almirante, voteranno tutto il contrario, come se Raggi fosse, non so, la supplente che si gira un attimo, i ragazzini si cominciano a tirare gli aeroplani di carta. È una cosa incredibile e dimostra come questa donna sia lì completamente in modo casuale. Lo si vede anche da come è ridotta Roma, diciamoci la verità. Ma certo, queste affermazioni sono affermazioni sconcertanti, veramente sconcertanti. Cambiamo argomento e io approfitto in questo momento di chiedervi ancora di condividere la diretta e poi di condividere questo video una volta che sarà diventato soltanto un video. Ma adesso che siamo in diretta, per favore, pigiate, condividi. Per fare un attimo il punto della visita di Macron a Parigi, chiedo scusa, l'apsus freudiano, della visita di Conte da Macron a Parigi, una visita nella quale il Presidente della Repubblica Francese ha fatto una cosa interessante. Ha detto a Conte, guarda Conte, tu sei il Presidente del Consiglio, io parlo con te. Una cosa banale, direte voi, evidentemente non lo è, perché è chiaro che in queste settimane il Presidente del Consiglio è stato Matteo Salvini che ha fatto il Ministro degli Interni, il Ministro degli Esteri, il Ministro delle Infrastrutture e naturalmente il Capo del Governo. La linea politica l'ha dettata soltanto la Lega Nord. Quindi cosa stanno facendo i paesi nostri tradizionali alleati? Stanno cercando di puntare su quella parte del Governo che ha posizioni ragionevoli, posizioni che certo non saranno quelle del Governo di centro-sinistra, ma saranno posizioni europeiste, atlantiste, di sostenibilità dei conti pubblici. Pensate all'intervista di Giovanni Tria, il Ministro dell'Economia, che è uscito la domenica scorsa sul Corriere della Sera, nella quale Tria ha detto delle cose di buonsenso, cioè quell'intervista avrebbe potuto più o meno farla anche Padoan. E quindi è chiaro che i nostri paesi tradizionali alleati, tra un Salvini che punta tutto nel rapporto con i paesi di Visegrad, quindi l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, anche l'Austria e la Slovenia, recentemente passati a governi di destra-destra-destra, diciamo così, loro dicono, guarda Conte, ricordati che poi il Presidente del Consiglio sei tu, cosa che Conte dovrebbe sapere, ma evidentemente non è chiara né a lui né a noi italiani, che, come dire, non lo vediamo particolarmente a cavallo, diciamo, in charge, come dicono gli inglesi, e lui naturalmente prova a barcamenarsi, so che sarà molto complicato, perché poi Salvini, diciamo, batte cassa, chiede spiegazioni, ma certo, questo, l'incontro tra Macron e Conte è stato un incontro nel quale si è parlato appunto di come distribuire i migranti, di farlo meglio, cosa che anche noi, col governo precedente, abbiamo molto insistito per avere dai nostri paesi partner dell'Unione Europea, e che proprio gli alleati di Salvini non ci hanno consentito, non ci hanno consentito di fare. Quindi vedremo come andranno le cose, però certo questa è una, diciamo, divergenza di linea politica molto forte che secondo me riemergerà più avanti, tra l'altro si sa che Di Maio ha molto insistito con i rappresentanti di 5 Stelle al governo perché ha sottolineato l'invisibilità del Movimento 5 Stelle in questo momento rispetto all'attivismo di Matteo Salvini, e quindi vedremo come, andranno le cose, però certo dopo poche settimane di governo le differenze tra i due sono sempre più nette ed è chiaro che Conte, vaso di coccio tra i vasi di ferro sta avendo dei grossi problemi, soprattutto perché davanti alle sue contraddizioni ora viene messo addirittura dagli alleati, dai capi di Stato stranieri, nostri amici. Ultimissima cosa, e sempre mi raccomando, condividete la diretta, in Italia continua secondo me a tirare una brutta aria, qualche giorno fa abbiamo parlato dei tre giornalisti fermati a Bolzano perché stavano, tre giornalisti che stanno indagando sui fondi della Lega, fermati, identificati in caserma, senza avvocati, cosa molto preoccupante, il Partito Democratico farà un'interrogazione su questo, ma ci sono due episodi che voglio riportare alla vostra attenzione che sono ugualmente estremamente preoccupanti. Uno, a Divrea, Salvini va a Divrea, sapete che Salvini ha detto delle cose orribili su Giulio Reggeni, ha detto che questo è un problema della famiglia e che l'Italia deve tenere relazioni con l'Egitto, ora io voglio sottolineare che ogni qualvolta anche a me è successo di incontrare, è successo una volta di incontrare il ministro dell'industria e del commercio egiziano a Buenos Aires, io ho sempre precisato che questo, che la collaborazione dell'Egitto per la risoluzione nel caso Reggeni era preliminare a ogni accordo commerciale e a ogni relazione commerciale tra i nostri due paesi e che la storia di Giulio Reggeni, la storia terribile di Giulio Reggeni era un'ombra tra, un'ombra pesante nelle relazioni tra i due paesi tradizionalmente amici come l'Italia e l'Egitto e che questo doveva essere considerato un elemento ostativo allo sviluppo di ulteriori relazioni commerciali tra i due paesi. Cosa dice Salvini tutto il contrario, dice è un problema della famiglia, a noi non interessa, l'Egitto è un paese troppo importante, è vero che è importante ma la vicenda di Giulio ci deve sicuramente interessare e indignare. Dei sostenitori di Amnesty International e del Partito Radicale srotolano uno, Striscione, di Ivrea durante questo incontro di Salvini vengono fermati e identificati dalla polizia. Brutto, 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 bruttissimo segnale secondo me perché stavano manifestando pacificamente e io penso che questo sia assolutamente una cosa che ciascuno deve poter fare se poi il ministro e Salvini esprime le sue posizioni noi cittadini siamo liberi e anzi abbiamo il dovere di esprimere la possibilità e la libertà ovviamente di esprimere le nostre opinioni. Secondo bruttissimo segnale a Todi viene spostata la direttrice della biblioteca direttrice della biblioteca alla quale era stato richiesto dall'assessora comunale alla famiglia un elenco di libri da mettere all'indice cioè si è detto l'assessora dice alla direttrice della biblioteca guarda trovami libri che parlano di diritti LGBT quindi di famiglia arcobaleno e di diritti delle persone LGBT quindi gay, bisessuali gay, lesbiche bisessuali, transessuali e questa direttrice apparentemente non produce questa lista viene trasferita in un altro a un altro incarico soltanto per questo altro bruttissimo segnale con i colleghi parlamentari presenteremo un'interrogazione anche su questo però io voglio veramente sottolineare che questo tipo di interventi sono interventi che preoccupano preoccupano perché sono indice di una tendenza come dire nella quale i diritti e le libertà delle persone stanno andando in secondo piano ed è una cosa che io voglio che tutti voi sappiate sulla quale noi non faremo nessuno sconto faremo le barricate e io voglio anche dire che questo riguarda ciascuno di voi perché i diritti delle libertà delle persone certo devono essere difese dai partiti dai parlamentari dagli eletti nei vari livelli istituzionali ma riguardano ciascuno di noi e su queste cose non c'è soltanto la delega politica c'è l'impegno politico personale diretto di ciascuno di noi perché ciascuno di noi può fare la differenza quindi noi vigileremo ma io vorrei che voi che mi ascoltate e tutte le persone e tutti i nostri concittadini soprattutto in questa fase si riappropriassero appunto del loro impegno politico perché è veramente molto importante io mi fermo qui per la nostra diretta di sabato vi do appuntamento nuovamente a domani domenica sempre alle ore 17 orario più tranquillo del fine settimana vi chiedo ancora come al solito di condividere questo video perché molti poi lo guardano diciamo così in replica durante la giornata vi aspetto domani numerosi aspetto anche le vostre domande perché stiamo pensando a una soluzione per poter fare magari una sessione settimanale di risposta alle vostre domande se avete osservazioni critiche suggerimenti sono i benvenuti io vi saluto per il momento e ci vediamo domani ciao